Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news su Call of Duty Infinite Warfare. Finalmente ragazzi ci siamo, oggi sarà svelato finalmente il nuovo capitolo della serie di Call of Duty. Infinity Ward infatti è uscita allo scoperto perché attraverso un annuncio tramite il suo profilo Twitter ha annunciato che nella giornata odierna farà un live stream. Ora quindi non ci sono davvero più dubbi, oggi sarà svelato il nuovo Call of Duty che da quanto ormai riportato da tantissimi rumors e immagini sarà Call of Duty Infinite Warfare. La presentazione ci sarà oggi alle 10.30 amptd, quindi l'orario americano, però da noi considerate che saranno le 19.30. Per seguire e per vedere questa live stream andate sul canale ufficiale Twitch di Call of Duty che ovviamente trovate nel post rilasciato dall'Infinity Ward su Twitter oppure andate direttamente sul link in descrizione del mio sito che vi riporta poi ovviamente sul canale Twitch di Call of Duty. Quindi questa sera ore 19.30 rimanete sintonizzati sul mio canale YouTube e sul mio sito internet per tutte le ultime notizie proprio dell'ultimo minuto sul prossimo capitolo di Call of Duty che sarà a quanto pare Call of Duty Infinite Warfare. Fatemi sapere intanto qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale. Grazie. Grazie. Grazie.